Musica Benvenuti al TG10, c'è nell'apertura del nostro telegiornale d'avvertenza Eni, ci occupiamo del vertice che si è tenuto ieri al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Una forte accelerazione si registra sull'accordo di programma la cui operatività è stata ottenuta a luglio. Incontri con cadenza periodica si terranno con la regione siciliana. Intanto si preme sugli ammortizzatori sociali straordinari ed in deroga come sostegno agli operai rimasti senza lavoro. Mercoledì l'amministrazione comunale e la regione incontreranno il ministro Poletti per strappare al governo un impegno concreto. La grave situazione che si verifica a Gela a seguito della chiusura della refineria Eni e la mancata riconversione in Green Refinery è stata ampiamente dibattuta ieri nel corso dell'incontro che si è avuto al Ministero dello Sviluppo Economico. Presente la regione siciliana con il governatore Rosario Crocetta, il sottosegretario allo sviluppo economico Simona Vicari, il sindaco di Gela Domenico Messinese ed il suo vice Simone Siciliano. Una forte accelerazione si registra sull'accordo di programma la cui operatività è stata ottenuta a luglio in meno di un anno. L'amministrazione comunale gelese punta ad un hub energetico green con uno sbocco intermodale come appendice sul Mediterraneo della nuova rete portuale nazionale per rilanciare la vocazione economica del territorio. Incontri con cadenza periodica si terranno con la regione per verificare le fasi di compimento. Gela non vuole vivere di sussidiarità ma vuole vivere di lavoro e su quest'altro fronte abbiamo accelerato le attenzioni sia sull'avvio delle bonifiche cercando di non farci fregare dalla burocrazia che di fatto fino adesso a vario titolo ha frenato gli interventi di bonifica di rampic del filo industriale ma soprattutto accelerando quell'accordo di programma che può pianificare il futuro del territorio a lungo termine e creare quella alternativa al polo petrolchimico a livello lavorativo che potrà dare nuovamente nuova linfa a tutto il territorio di Gela e dei paesi limiti. Intanto si preme sugli ammortizzatori sociali straordinari ed inderoga come sostegno agli operai rimasti senza lavoro. Mercoledì l'amministrazione comunale e la regione incontreranno il ministro Poletti per estappare al governo un impegno concreto. La stessa Vicali assieme alla regione, assieme al governo, valuteranno quali sono le autorizzazioni da rilasciare immediatamente perché o i due strumenti camminano assieme o uno è alternativo all'altro. La gente deve continuare a vivere e per farlo ha bisogno di un reddito che venga o dagli ammortizzatori straordinari o dal lavoro. È chiaro che nello stesso tavolo, visto che era contestualizzato l'accordo di programma, si è deciso di dare una data ultima per avere l'accordo definitivo nel luglio di quest'anno. Quindi questo significa tempi record. In meno di un anno sarebbe possibile avere i progetti che dovrebbero cambiare il volto definitivo di Gela per il suo sviluppo territoriale. Ogni esponente del governo dovrà assumersi le proprie responsabilità per il rilascio immediato delle autorizzazioni ai cantieri di Bonifica e della Green Refinery se si ha davvero l'intenzione di salvare Gela, è quanto riferito da Messinese e Siciliano. Ieri a Gela è arrivato il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, ha incontrato i lavoratori che protestano. Franco Gallo lo ha intervistato. Onorevole Di Maio, è qua a Gela per venire a vedere in che condizioni questa città sta vivendo questo drammatico momento. Si dice forse il peggiore della sua storia recente. Qual è la sua idea? Cosa riporta a Roma di questa sua visita a Lampo a Gela? Io sono qui per conoscere prima di tutto la situazione dai diretti interessati e soprattutto per non fare alcuna promessa. L'ho detto chiaramente ai lavoratori dell'indotto, 500 persone rischiano il posto di lavoro, anzi hanno già finito la cassa integrazione. Queste persone mi hanno detto che si sentono presi in giro dal piano dell'ENI. Il piano che parla di Green Refinery, che parla di una serie di cose fantascientifiche, tutte scuse per non fare le bonifiche e per non restituire ai cittadini di Gela la città così com'era prima di prenderla con la raffineria. Un operario mi ha detto come ci hanno sfruttato, adesso ci devono dare una soluzione ponte per riuscire a rimetterci in carreggiata con il lavoro. Molti di loro sono anche vittime della legge Fornero, perché potrebbero stare in pensione oggi e invece hanno davanti ancora anni prima della pensione a causa di quella legge. Insomma, qui si congestionano tutti i problemi della politica nazionale e locale. Che cosa facciamo noi? Prima di tutto stiamo spingendo il più possibile con la nostra Presidente di Commissione Ambiente e il Consiglio Comunale il piano per le bonifiche, perché con le bonifiche si può dare lavoro ma soprattutto si può restituire alla città la vocazione turistica e la vocazione agricola. L'ENI si deve mettere in testa che come ha sfruttato questo territorio adesso lo deve mettere a posto e per fare questo io invierò adesso nelle prossime ore, nei prossimi giorni un atto ufficiale della Camera dei Deputati al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere di premere sulle bonifiche e sugli investimenti, non su questa idea della green raffinerie che sappiamo già al nord non ha funzionato ed è il miglior specchietto per le allodule per dire a LENI guarda noi ti facciamo fare la green raffinerie e tra l'altro non ti facciamo bonificare. LENI non vuole metterci i soldi, quello è il punto. In questo momento ci sono due governi, quello nazionale e quello regionale, dello stesso colore politico entrambi guidati dal PD che si palleggiano responsabilità di gravi ritardi. Ma il problema è proprio quello lì, se questi lavoratori fossero dei banchieri li avrebbero già salvati. Noi le soluzioni le abbiamo, abbiamo un piano alternativo, sappiamo dove prendere i soldi per la cassa integrazione perché queste persone devono avere un ponte fino a che non parte il piano delle bonifiche. Ci sono i fondi europei FEG, ma qui la questione è che non si stanno interessando adeguatamente i vertici politici perché non gli interessa, queste persone non sono un numero cospicuo di persone che gli possono interessare elettoralmente o dal punto di vista dei soldi per farsi finanziare le campagne elettorali. È stato qua Gela a maggio per chiedere ai gelesi di votare a Domenico Messinese sindaco, oggi Domenico Messinese non è più dei vostri. Io ho chiesto ai gelesi di votare un programma, un programma che prevedeva di sconfessare le balle dell'ENI e del PD su questo territorio e guarda caso adesso sono stato dei lavoratori che mi hanno detto le stesse cose che noi mettevamo nel programma elettorale. Il fatto di essere qui significa che quel programma va avanti, i cittadini gelesi non si devono sentire abbandonati, anzi siamo ancora di più sul territorio e li seguiremo direttamente da Roma per il problema occupazionale qui e per tutti gli altri problemi che riguardano questo territorio. E martedì prossimo mobilitazione generale a Gela, un corteo per dire no alla chiusura della raffineria. Il giorno dopo, mercoledì, i consiglieri comunali andranno a Roma. Mobilitazione generale contro la chiusura della raffineria ENI e la mancata riconversione si terrà martedì 26 gennaio. Un corteo partirà alle 9.30 dall'ospedale Vittorio Emanuele e attraverserà Corso Salvatore Aldizio fino a giungere in piazza di fronte al municipio. E quanto deciso dal Consiglio Comunale di Gela, saranno coinvolte tutte le categorie produttive e sociali della città. La città è stanca di aspettare risposte, di aspettare un futuro, di aspettare lo sviluppo e la riconversione dell'industria di questa città. I problemi apparentemente potrebbero essere solamente quelli che riguardano gli ex lavoratori dell'indotto, i lavoratori che sono al termine della cassa integrazione, ma non è così, perché la problematica ormai riguarda tutti i cittadini gelesi, che ormai non ce la fanno più veramente di aspettare, di vedere i loro amici, i loro parenti che sono in crisi. Conosciamo ognuno di noi persone che già si sono allontanate dalla città per andare a cercare lavoro fuori, ma non per cercare la fortuna, ma solamente per mantenere le loro famiglie che sono rimaste qua. Tra l'altro anche alcuni sappiamo lasciando le proprie case e andando a stare di nuovo dei genitori perché non potevano più mantenere la casa in affitto o pagare le bollette. La problematica è importante, tutti in piazza martedì, ma non 1.000, 2.000, 3.000 persone, che voglio dire sono le prime ad essere gradite, ma dobbiamo essere 10.000, 20.000, 30.000, perché solamente se è numerosi e se la città intera, quindi tutte mamme, figli, ragazzi, giovani, anziani, tutti coloro che possono fare una marcia di un'ora, io li prego di venire alle 9.30 davanti all'ospedale per fare questa marcia che non è lunga, ma più che altro è significativa fino al municipio. Il giorno dopo la mobilitazione generale, dunque mercoledì, i consiglieri si regheranno a Roma per far sentire la presenza di Gela all'incontro che si trarrà al Ministero del Lavoro, convocato per discutere sulla proroga degli ammortizzatori sociali. Mercoledì pomeriggio ci sarà un altro tavolo al Mise per parlare della casa integrazione straordinaria, è pronta quindi a supportare non solo i cittadini, ma questa volta l'amministrazione direttamente, quindi il sindaco e il vice sindaco che sono a Roma, affinché loro possono dire anche all'interno del tavolo fuori abbiamo il Consiglio Comunale rappresentativo di tutti i 74.000 abitanti della nostra città, affinché il Governo nazionale e l'ENI diano risposta a questa città. E della vicenda ENI se ne è parlato ieri sera durante la trasmissione Agora, condotta da Franco Gallo. Vediamo. La vertenza Gela finalmente assurta a caso nazionale è stata al centro della puntata di Agora andata in onda ieri sera su Canale 10. Da Gela e da Palermo dunque la palla passa una volta per tutte a Roma, laddove cioè è stato creato il problema Gela e dove ora si deve assolutamente provare a risolverlo. In città restano le macerie del piano industriale voluto dall'ENI e ratificato da un Governo nazionale di comune accordo con il Governo regionale è quello cittadino che ha guidato Gela negli ultimi 22 anni, ossia quel fil rouge che da Gela, passando per Palermo e per arrivare fino a Roma, è stato a conduzione assolutamente PD. Da martedì, da quando cioè i lavoratori dell'indotto, a spasso da oramai troppo tempo e persino senza più nemmeno l'elemosina degli ammortizzatori sociali, hanno cominciato ad inscenare i blocchi stradali ai principali ingressi alla città, la vicenda Gela si è spostata nella capitale. Al Ministero dello Sviluppo Economico ieri si è tenuto un primo incontro alla presenza del sindaco messinese, del presidente della Regione Crocetta e del sottosegretario del Governo Renzi, Simona Vicari. Quello che si è ottenuto è assai poco, ma è stato considerato un primo passo verso la soluzione dei problemi più gravi. Mercoledì si torna a Roma e stavolta l'interlocutore degli amministratori gelesi sarà il ministro del lavoro Giuliano Poletti. Di tutto questo dunque si è parlato nel salotto televisivo di Agorà, in studio, assieme al conduttore, due lavoratori dell'indotto gelese, Emanuele Zappulla e Franco Biundo, ed ancora il presidente della Confcommercio Locale, Francesco Traenito, il responsabile dell'associazione Cifra, Emanuele Antonuzzo, e l'ingegner Fabrizio Lisciandra. Nel corso della trasmissione sono intervenuti telefonicamente in diretta da Roma sia il sindaco Domenico Messinese che il suo vice Simone Siciliano. Ad arricchire poi di spunti la puntata di ieri sera di Agorà, anche le interviste con il vice presidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, del Movimento 5 Stelle, in visita a Lampo, ieri pomeriggio a Gela, assieme ad altri esponenti di spicco grillini, come il deputato regionale Giancarlo Cancelleri. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo attraverso la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su Canale 10, oppure sui nostri indirizzi social, il sito internet www.tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata, come sempre con ospiti ed argomenti che interessano Gela e di Gelesi. E come abbiamo appena visto nel servizio, ieri a Gela è arrivato anche il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Giancarlo Cancelleri. Sentiamo cosa ha riferito ai nostri microfoni. Noi in campagna elettorale avevamo tracciato una linea che era quella del risanamento ambientale, delle bonifiche che darebbero lavoro per i prossimi 20 anni. Stiamo ovviamente chiedendo una soluzione ponte, che è quella dei fondi FEG per gli ammortizzatori sociali degli operai. È chiaro che oggi noi, come polemicamente qualcuno ha voluto dire, non abbiamo abbandonato Gela. Noi abbiamo perso il sindaco perché non abbiamo voluto sacrificare l'onestà e il voto dei cittadini e la nostra coerenza sia del programma che del loro voto al programma. E quindi abbiamo sacrificato invece una poltrona, cosa che invece gli altri partiti non hanno mai fatto. E però oggi, di fronte all'accusa che abbiamo abbandonato Gela, non ci stiamo. Oggi siamo qui, siamo venuti con due dei massimi esponenti del Movimento 5 Stelle nazionale, proprio a parlare con gli operai e a dire che non sono soli. Stiamo proponendo soluzioni, le stiamo proponendo a livello nazionale, perché al tavolo del Mise faremo arrivare una comunicazione dove chiediamo al Ministero di prendere una posizione rispetto a Eni proprio per impegnarli a fare le bonifiche e quindi a cacciare fuori i soldi. Quei soldi che in tutti questi anni qui a Gela si sono fatti e che si sono portati via, non lasciando nulla. E stiamo chiedendo a livello regionale, direttamente io scriverò al Presidente Crogetta proprio per chiedergli di impegnarsi a rappresentare la Sicilia e soprattutto anche la sua città in quello che è un problema ormai davvero occupazionale che sta diventando un problema anche umano di grandissime proporzioni perché sta generando tantissime tragedie e tantissime situazioni. Vogliamo aumentare l'attenzione affinché chi è venuto qui, Matteo Renzi, al Consiglio Comunale dicendo che era tutto a posto e oggi continua a dire che il problema è risolto non si lavi le mani in questo modo ma comincia a prendere davvero a cuore. Bastano pochi minuti per risolvere questo problema perché il Ministero è azionista di maggioranza di Eni e quindi può obbligarlo a fare delle scelte importanti e su questo territorio devono ritornare i soldi per la bonifica e questa è la nostra idea. Cosa si è fatto come idea visto che si palleggiano governo nazionale e regionale nonostante siano sotto la stessa egida quella del PD il problema Gela? Ma io vedo che c'è un PD nazionale a cui non ne frega assolutamente nulla si sta completamente lavando le mani Matteo Renzi, ripeto, continua a dire che qui il problema è stato risolto in realtà il problema l'ha creato lui qualche mese fa quando è venuto qui e praticamente hanno cominciato a sbaraccare tutte le cose e a livello regionale noi abbiamo sempre puntato il dito contro quel protocollo d'intesa noi lo dicevamo dall'inizio che il protocollo d'intesa era la scusa per Eni per andarsene davvero sbattendo la porta perché impegnava la regione a diminuire le tasse e le royalties impegnava la regione... E come in tutto questo, il Gelese Crocetta? E Gelese Crocetta sta facendo lo stesso disastro a Gela che sta organizzando in tutto il resto della regione Crocetta ormai non governa più questa terra ormai da tempo perché è stato messo all'angolo, è rimasto solo e ormai è vittima del suo stesso Partito Democratico che ormai sta governando in maniera davvero incapace Un po' come Messinese a Gela? Solo all'angolo? Ma guardi, io spero che... Cioè io auguro a Messinese di continuare a governare di governare come lui vuole governare noi avevamo un programma, lui non l'ha rispettato è stato messo alla porta per quel motivo E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro torna ad occupare le prime pagine dei giornali la vertenza Eni ed il Corriere di Gela non è da meno con ampi servizi sulla vicenda occupazionale che sta mettendo in ginocchio l'intero comprensorio le firme sono quelle di Filippo Guzzardi e Giulio Cordaro in prima pagina anche la telenovela della riforma dell'ex provincia il giornale riferisce dell'ultima missione palermitana del comitato che incontra l'assessore agli enti locali Lantieri a cui è stata sollecitata la definizione del passaggio di Gela Niscemi e Piazza Almerina alla città metropolitana di Catania in terza pagina un'intervista a tutto campo di Nello Lombardo al presidente di Confindustria Centro Sicilia il gelese Rosario Amaru il quale a proposito del protocollo Eni dice che doveva essere una opportunità da cogliere subito nelle pagine interne altri servizi di politica attualità e cultura di Lucrezia Ferro Gianni Viricataula, Elio Cultaro, Nuccio Mule e Sebastiano Arnone nella pagina sportiva i commenti di Orazio Accomando sui campionati di calcio e di eccellenza e promozione con particolare rilievo allo scontro al vertice tra Gela e San Caldaldese di scena domani al Presti chiude il giornale e come di consueto la pagina degli annunci economici si svolgerà mercoledì 27 gennaio prossimo alle 10.30 nell'aula magna dell'istituto tecnico commerciale Luigi Sturzo di Gela la presentazione del libro Verginità Rapite di Ismele Selmanai Leba l'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del giorno della memoria un impegno per il futuro costruire un cammino senza crimini i saluti iniziali saranno affidati ai presidenti del club service e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo modererà i lavori Fabiola Polara saranno presenti l'editore del libro Salvo Bonfiorraro e l'autrice la lettura dei brani e l'esecuzione con il violino e a cura degli alunni della seconda B della liceo Eschilo di Gela saranno esposte opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità eccoci seconda parte del telegiornale sono aperte le iscrizioni all'istituto tecnico Luigi Sturzo di Gela diretto da Grazio Di Bartolo settore economico ed alberghiero per informazioni rivolgersi direttamente al personale della segretaria in via Ettore Romagnoli dalla lunedì alla venerdì dalle 9 alle 13 ed il martedì dalle 15 alle 18 il Soloptimist Club di Gela bandisce un concorso fotografico dal titolo Le Dune Gelesi rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze del nostro territorio le foto inedite dovranno pervenire entro il 15 marzo prossimo saranno premiati i primi tre classificati il bando di concorso è consultabile presso tutte le scuole superiori di Gela e adesso parliamo di sport, calcio è tutto pronto domani sfida d'alta classifica nel girone A di eccellenza al Presti di scena Gela San Cataldese in palio c'è la vetta della gradotoria domani dalle 10.30 alle 12 apertura del botteghino per la vendita dei biglietti vediamo è la madre di tutte le partite domani alle 15 al Presti andrà in scena Gela San Cataldese seconda contro prima le due squadre sono divise da tre punti si tratta dell'operazione a gancio per la truppa allenata da Totò Brucculeri vincere ed approdare in testa la gradotoria del girone A del campionato di eccellenza e poi giocarsi il tutto per tutto per il salto di categoria in serie D ecco perché la gara di domani è una sfida al cui risultato sarà determinante per chi lotta inseguendo un sogno in settimana Nassi e compagni hanno lavorato intensamente per prepararsi al meglio alla partita di domani c'è in gioco una fetta di campionato la San Cataldese è un osso duro e la classifica lo dimostra ampiamente in testa con 38 punti frutto di 11 successi 5 paraggi e 2 sconfitte in seni hanno la miglior difesa del torneo con soli 9 gol subiti di contro il Gela possiede uno dei migliori attacchi con 31 gol realizzati 4 in meno rispetto al Dattino Noir terzo in gradotoria i biancazzurri finora hanno conseguito 10 vittorie pareggiando in 5 occasioni e perdendo 3 volte per la gara di domani l'allenatore Brucculeri potrà contare sull'intero organico a disposizione saranno della partita a tre piedi Runze e Campanaro nelle fila della San Cataldese invece mancheranno per squalifica Di Marco, Bruno e Montalbano dirigerà la gara Emanuele Bragaccini di Macerata previsto il pienone allo stadio i tifosi biancazzurri in questi giorni hanno tappezzato la città con numerosi striscioni Avanti Gela, lotta col cuore, tutti allo stadio, vinci per noi, forza ragazzi gli striscioni sono stati collocati in diversi punti della città Da San Cataldo partiranno due pullman, all'andata finì 4-0 per i verde Amaranto ma quello era un altro Gela e c'era anche un altro allenatore da allora ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata e tanta domani sarà una festa di sport e che vinca il migliore così come è accaduto in occasione della partita casalinga con la Folgore prima del fischio d'inizio il capitano di Biancazzurri consegnerà al suo omologo avversario e all'arbitro un presente promosso dalla Proloco in collaborazione con la società preseduta da Angelo Tuccio al fine di promuovere le bellezze della città E nel campionato di promozione trasferta per la 3 di Gogela dopo la sconfitta maturata domenica scorsa in casa nel derby col Macchitella la formazione allenata da Peppe Misiti giocherà sul campo del Marina di Ragusa non faranno parte della gara gli squalificati Retucci e Zarba le due compagini in gradatoria sono divise da 5 punti gli Iblei sono reduci dalla vittoria in trasferta ottenuta con la polisportiva Palma dal 25 al 29 gennaio gli atleti dell'Orizzonte Gela parteciperanno ai giochi invernali di Bormio alla cerimonia di apertura saranno presenti 200 tecnici 400 familiari e circa 300 volontari che vedranno sfilare oltre 460 atleti con e senza disabilità intellettiva assieme ai rappresentanti delle associazioni locali per vivere un evento sportivo che valorizzi le capacità di ognuno gli atleti dell'Orizzonte che parteciperanno sono Mario Ignazio e Franco Palmeri Francesco Mammano ed i partner Gianfranco Cassarino e Silvana Palumbo appuntamento lo ricordiamo dal 25 al 29 gennaio ed ora invece occupiamoci di spettacolo continuo alla rassegna sabato a teatro promossa dall'associazione culturale Demetra sabato 13 febbraio alle 21 la compagnia Piccolo Borgo Antico di Dipari porterà in scena al teatro Eschilo di Gela all'opera Un pizzico di pizzo una commedia in due atti di Nino Mignemi per l'occasione gli organizzatori della rassegna teatrale offriranno l'ingresso gratuito ai lavoratori dell'indotto in segno di solidarietà verso la grave crisi che attanaglia il settore e per regalare qualche momento di serenità a loro e alle loro famiglie sentiamo Con Salviamo il Salvabile avete raggiunto un obiettivo strameditato che è quello di aver avuto il sold out per la prima l'obiettivo è ripetervi sempre davanti al pubblico amico di casa Sì, sicuramente intanto vi diremo subito vi comuniceremo a giorni la data della replica e voglio ringraziare tutti i presenti che ci hanno onorato veramente il 16 gennaio nel nostro spettacolo siamo veramente felici perché abbiamo creato un'alternativa che non è l'alternativa di una serata passata al cinema ecco noi vi abbiamo dato il vero spettacolo che è il teatro e vi invitiamo il 13 febbraio perché ancora continuiamo con la rassegna di sabato a teatro Anche perché in un periodo di crisi che sta attanagliando Gela con i blocchi stradali con la gente che purtroppo ha perso il lavoro almeno c'è un'oretta due orette di svago Sì, questo noi vogliamo che la gente lo apprezzi perché al di là di accendere la televisione vedere queste notizie funeste almeno un po' di relax mentale ci vuole abbiamo sotto questa egida abbiamo voluto proporre questa nostra rassegna sabato a teatro con il teatro comico e quindi il 13 di febbraio sabato 13 alle ore 21 porteremo in scena il secondo spettacolo che è per un pizzico di pizzo di Nino Minie una commedia divertentissima a portarla in scena sarà un gruppo siciliano ma ai limiti della Sicilia perché vengono da Lipari quindi un gruppo premiatissimo fra l'altro con tanti palmaresti nel loro arciere quindi una bella compagnia con un bellissimo spettacolo all'insegna del puro divertimento e per solidarizzare con chi protesta e con chi come dicevamo sta perdendo se non l'ha già perso il posto di lavoro voi avete avuto un'idea? vogliamo consegnare dei biglietti ad alcuni operai così verranno il 13 febbraio a rilassarsi un poco e a non pensare a questa brutta storia e a stemperare gli animi sicuramente questo è un momento tristissimo per Gela e perciò il nostro teatro vuole portare due minuti un paio d'orette di svago Il Ponte delle Spie è il film in programmazione al Cine Teatro Antitodo di Macchitella a Gela sono due i orari 18 e 21 e 30 e il Consiglio d'Egitto è invece l'appuntamento teatrale che si darà oggi all'Eschilo di Gela alle 17 e 15 e alle 21 e 15 sul palco Enrico Guarneri per la regia di Guglielmo Ferro e stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Ernesto Maria Ponte lasciate libero lo scarrozzo e Giuseppe Castiglia il botteghino sarà aperto il Verdi ed il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30 prossimo spettacolo con Ernesto Maria Ponte il 17 febbraio e proseguono gli appuntamenti musicali inseriti nel cartellone dell'82esima stagione concertistica gelese promossa dalla associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domani alle 19 e nei locali del Palazzo Principessa Pignatelli è previsto il recital del pianista Dario Forturello abbiamo concluso con la pagina dedicata alla musica l'appuntamento di oggi grazie per averci seguito appuntamento a lunedì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti